bella balla eh che recupero che aveva fatto se lega troppo quindici pari 30-20 28-20 30 31 no 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 è brutto no, 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 no no, 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 no no, 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 no 30 pari bel contropiede 40 pari, 4 a 1 Grazie a tutti. è stato tremendo, si schizza al fondo vediamo è più a 400 ahhh, questo è belotto 35 e un'altra mano no, questo è fuori peccato 40 e 15 no, 40 e 15 quindi 0, terzo sguardo ahhh, buco 30 a 0 terzo sguardo 0 a 0, 30 a 0 eh, lo ha perso al đầu 1-0 eh, l'ho perso Siamo a 0.30 Siamo fuori, 1.30 Siamo più forte, giù, ma di mebbia E' l'ha sentito Buona, vai Bravo Bello smash Vantaggio esterno Metta la denta Questa è la tagliata No L'intenzione è una buona Questa è la parte